Buonasera, non c'è bambino nato a Genova e nei suoi dintorni che, quando era piccolino ed ancora giocava a pallone, non abbia sentito, non abbia urlato ai compagni meali. E quando questo bimbo si è avvicinato al calcio dei grandi, è andato a Marassi o ha visto lo sport in televisione, probabilmente ebbe quasi uno shock nel non sentire più quella magica parola meali. Era semplicemente la rimessa dal fondo meali. Per intenderci, quando un tiro finiva fuori dal campo dietro al portiere, la rimessa in gioco di un difensore era chiamata meali. Dai, batti il meali, si sentiva dire dal portiere e anche dal mister, dall'enattore in panchina. Perché i numero uno di tanti anni fa erano, anche a livello di serie A e di serie B, un poco scarsi con i piedi e a battere il meali in genere era il libero oppure un terzino. Ma perché questa parola? Perché viene chiamata così? Qual è l'origine vera? Apparentemente è molto difficile se non impossibile capire. Ma alla fine, forse la soluzione, proprio perché si dice soltanto a Genova e nei dintorni, è più facile del previsto. Qualcuno in questa ricerca ha fatto notare che anche il sito di una nota associazione sportiva ricreativa, l'AICS, inserisce nel proprio regolamento di gioco la frase il calcio di rivio e quella ripresa di gioco volgarmente conosciuta con il nome di meali. Qui viene ufficializzato ma a Genova. Ma per la lingua italiana resta rimessa dal fondo o calcio di rivio. Del resto, se cerchiamo sul web, su libero.it o su google.it, la parola meali non è proprio assolutamente considerata. Ma visto che a Genova approfonde radici inglesi, specialmente anche e soprattutto nel calcio, con la lingua inglese ci sarà mica qualcosa di questo meali. Secondo alcuni potrebbe essere la storpiatura di my line, la mia linea, cioè la linea del portiere pronto a rimettere in gioco. Teoria abbastanza azzardata. Infatti, in lingua inglese, la rimessa dal fondo si chiama gold kitsch o ancora meglio gold line e ci vuole veramente tanta fantasia per associare questi termini con il nostro meali. Tanti esperti di linguaggio calcistico considerano meali la versione italiana dei termini genovesi mea e li, guarda li, una sorta di allerta che chi batteva indirizzava ai centrocampisti questo urlo che dovevano stare pronti a ricevere ed intercettare la palla. Altri invece sostengono che potrebbe essere stato il cognome di un calciatore genovese degli anni venti di nome meali. La ricerca però non ha dato assolutamente frutti. L'unico sportivo con un nome del genere era Bruno meali con due l, campione di taglia di ciclismo nei primi anni sessanta. Direi tutt'altra faccenda. Poi fra tante supposizioni la più probabile potrebbe essere questa. Quando il battitore, quello che batteva, la rimessa dal fondo, gridava e indicava al genovese meali, poteva significare compagni attenti che la palla la mando sulle ali. Quindi se altre parole che si sentivano fino agli anni sessanta, marassi, avevano chiare ed inequivocabili origini inglese, ricordiamo Belin, che non è inglese questo, però arriva. Belin le enzi, quando un avversario commetteva fallo di mano, quindi enzi, chiaramente dall'inglese enz, mano. Oppure le varie corner, angolo. Penalti, penalty, rigore. Offside, fuori gioco. Ed ancora il genovesissimo ureferi, che sarebbe referi l'arbitro in inglese. Tutte parole che ormai, dagli nostri stadi, sono assolutamente scomparse. Ma per il nostro caro, amato meali, non ci sono dubbi. È genovesissimo e ne andiamo orgogliosi e fieri. Forza ragazzi, sulle mie ali, sceme ali, meali. Buona serata.